Prima uscita pubblica del nuovo segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti nel Lazio l'ha fatta in provincia di Frosinone e precisamente a Danagni alla Saxa Gress, un'industria molto nota per aver salvato posti di lavoro, essere rinata e utilizzare scarti nella sua economia circolare per produrre San Pietrini. Per Zingaretti è stata l'occasione per illustrare quali saranno i punti caratterizzanti del PD del futuro, puntare su Industria 4.0, Green Economy, queste le priorità e non ultimo rilancio del partito e del Paese. Calcare la mano sull'incredibile situazione di un Paese che all'improvviso ha tutti i cantieri possibili che non aprono e quelli aperti addirittura bloccati. Oggi volevamo dare un segnale vicino a tutti coloro che in Italia producono, imprenditori, operai, lavoratori, in una situazione drammatica del nostro Paese. In questi nove mesi, come sapete, tutti gli indici della produzione industriale italiana sono negativi o addirittura crollati. Gli italiani pagheranno per questo un grande costo, perché non è con i selfie o la propaganda o gli attacchi agli immigrati o l'odio che si costruisce futuro. Il futuro lo si garantisce, si costruisce grazie al lavoro e, ripeto, a nuove politiche industriali. È stato un errore nella finanziaria 2019 aver indebolito la strategia di impresa 4.0 che, ad esempio, ha indebolito il superammortamento per gli investimenti, ha tagliato, anzi, dal 50 al 25% il credito d'imposta per ricerca e sviluppo. Questo prodotto, se non ci fosse stata, oltre che la passione, però la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, oggi non ci sarebbe e non sarebbe qui. Il segretario non ha risparmiato critiche al governo attuale, assente in una visione del futuro del Paese, una maggioranza che ha definito arrogante. Il PD è tornato in campo unito e unitario per salvare l'Italia. Nove mesi sono abbassati per capire che tante aspettative degli italiani nei confronti di un'opzione di governo stanno andando deluse. Io ho un assoluto rispetto totale per tutti gli italiani che hanno votato 5 Stelle e Lega, perché evidentemente quei partiti hanno raccolto più di noi l'ansia di riscatto di questo Paese. E noi oggi non siamo qui solo per opporci o dire no, noi siamo qua per tentare di indicare soluzioni migliori alle persone per affrontare i propri problemi. Innanzitutto alle ragazze e ragazzi italiani che vogliono lavoro, vogliono studio, vogliono cultura e non è che l'attesa di un barcone di immigrati glielo garantisce. Solo grandi investimenti e un sistema produttivo e una nuova Europa può dare a una nuova generazione quello che una nuova generazione merita di avere, da un Paese e dalla democrazia, che è la possibilità di farsi una famiglia, di farsi se vogliono dei figli, di trovare lavoro e questo non si ottiene con gli slogan e con la propaganda, ma come abbiamo visto con tanto sudore, tanta ricerca, tanta passione. È un sistema Paese che fa rete. Il trasferimento tecnologico è una delle grandi ambizioni e scommesse che noi dobbiamo portare avanti, cioè creare quelle reti che trasformano il giovane genio studente universitario dentro la grande università in idea che la trasferisce a chi produce. Quindi noi abbiamo bisogno di questo e non di paura. Chiaro anche il messaggio su quanto riguarda il TAV Torino-Lione. La conferma che il governo non è il gioco delle figurine. Io do questo a te e te dai questo, lo scambio dei provvedimenti. Il governo di un grande Paese come l'Italia non può che essere fondato su una visione di sviluppo del futuro e se non sono d'accordo su una visione comune del futuro dovrebbero per cortesia abbandonare questa sfida, dimettersi e ammettere che non ce l'hanno fatta.